Nome Qui a Raccontami facciamo un gioco Io ti propongo una parola e tu per associazione di idee mi dici quello che ti viene in mente Ok La prima parola che abbiamo scelto è nome 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 immagino che si riferisca al mio nome Babaman Di solito quello che mi chiedono è Da dove viene? Viene dal writing Io ho iniziato a approcciarmi all'hip hop con il writing E all'inizio mi fermavo rave R-A-V-E Poi siccome avevo i dread I dreadlocks Abbastanza lunghi I ragazzi della crew erano Fissati con l'India C'erano amici che ci andavano spesso Hanno iniziato a chiamarmi Babaman Baba Sembri un baba Con quei capelli sembri un baba indiano E io ho pensato Caspita baba Per me che faccio writing Sono quattro lettere Quindi non è lunghissimo Un tag perfetto Esatto Quindi due lettere uguali Anche da studiarmi il lettering Era abbastanza semplice È diventato baba Poi da lì c'è stata una mutazione Perché ho iniziato a cantare Io cantavo già anzi In realtà Però ho iniziato un po' più seriamente Abbandonando Poi accantonando Quello che era il writing Perché non era proprio il mio E si è trasformato in Baba Man No Mister Baba Prima Poi Mister Baba Man E poi ho tolto il Mister E è rimasto Baba Man Poi da lì ci sono state evoluzioni Di altri diecimila nomi Quasi forse uno a disco Credo O anche di più E infatti perché C'era venuta in mente questa parola Sì Perché in realtà Ogni nome ha una vita diversa Insomma Sì esatto È proprio quello che Del progetto penso Sì È proprio quello che Vuole simbolizzare Perché è una cosa Che non mi sono inventato io Ma viene dalla Giamaica Cioè più cantanti Nelle loro ere Hanno cambiato O modificato il nome Mi viene in mente Assassin Che è diventato Sasco Agent Sasco Assassin Ha modificato il nome Sì anche nel rap Così no Sì anche Anche appunto Per modificare le ere E anche per me è stato così Nella mia era più denso L'è uscito Stamina Dadi Per esempio Nell'era più Invece Ragamoffi N'era Vava Uragano Baba Man Sì sono usciti vari nomi The Iron Man Più Reggae Perché Diversi Diversi Nel rap ne avevo ancora altri Che poi si sono persi Il Duende che cammina Il Duende che cammina Questo me l'ero perso Sì sì C'è in qualche testo Se non ricordo male Parlavamo di rap E quindi la prossima parola In realtà è molto Molto vicina al rap Perché è il ragamoffin Il ragamoffin Il ragamoffin è il mio stile preferito Nel reggae Quello che Io Mi sono avuto la fortuna Di vivere Gli anni d'oro Dei 90 E Le ricordo Probabilmente anche tu Molto Teneramente Quindi Il ragamoffin È Lo stile che preferisco Nel reggae Credo che si senta Anche ascoltando Diciamo I lavori che ho fatto Perché ce n'è molto Tuttora mi piace farlo Ancora Tuttora mi piace ascoltare Il new ragamoffin Quello che fa per esempio Cabaca Pyramid O altri artisti come lui Non mi stanca mai Secondo me È immortale Il ragamoffin È uno di quegli stili di reggae Come il roots Del resto Come anche gli altri Che però Hanno segnato un'era E poi da lì Si è evoluto Anche Viene messo nella musica elettronica Cioè Ragamoffin è immortale I love ragamoffin E invece un'altra parola Che con ragamoffin C'entra poco Ma Che in realtà È D'uso comune In giorni nostri Sempre riguarda la musica È Trap Trap Allora Tenterò di metterla piano Insomma Toccarla leggermente Non amo molto Questo genere musicale Non In Italia Per esempio Non lo vedo Così tanto Legato all'hip hop Come viene dipinto Però questa è una mia Visione personale E quindi Discutibile Detto questo Trovo che comunque Nel mondo Ci siano artisti trap Molto bravi Musicisti Che sono musicisti In generale Che hanno valore Ci sono pezzi trap Che sono fatti bene Quindi Sulla trap In generale Come fatta Fatta bene Non ho niente da dire È che magari In Italia Si è un po' Confuso Nel senso che In Italia Oggi Chi riesce a farsi una base Col computer E ha un autotune La prima cagata che fa È un pseudo trap E purtroppo Chiaramente Come tutti Possiamo vedere Si è intasata Un po' Questa cosa Tutto qui Non è che abbia Le argomentazioni Secondo me Quello che porti Anche nei testi Probabilmente Sì Appunto per quello Dicevo C'è un'omologazione Tremenda Nel senso che Trap è quella base Di un certo tipo Uso certi strumenti Certo Poi questo è anche Quello che si va incontro Dal momento in cui La strumentazione Per fare musica Può averla Chiunque a casa E quindi Chiunque poi Ha anche la possibilità Di entrare A contatto col pubblico Tramite internet E youtube Questo cosa porta Porta al fatto Che ci sia più libertà E questo va bene Quindi che un artista Che magari Non è raccomandato Può venire a contatto Col pubblico E lì Può essere visto Da tutti Però questo comporta Anche il fatto Che chiunque Anche chi Non ha magari Le capacità O non è proprio La sua cosa A fare questo Può farlo E quindi Capisci che questo Può va a intasare Con molta immondizia Con qualche perla In giro Bisogna sempre Fare una bella distinzione Non si può fare Sicuramente Generalizzare O fare di tutto Anerba un fascio Ecco Ora Parola Un po' Infocata In realtà Che è Proibizionismo Proibizionismo A me viene in mente Fallimento Fallimento Perché Proibizionismo È una cosa Che è stata sperimentata In diversi modi In diversi paesi In diverse culture Per tanti anni E ha fallito Perché se non avesse fallito La droga Non ci sarebbe più La gente non diventerebbe Tossicodipendente Sarebbe scomparso Visto che invece Dal momento in cui Storicamente Dati alla mano Dal momento in cui C'è stato un proibizionismo L'uso Il consumo Di quella sostanza Proibita È aumentato Esponenzialmente Questo Indica il fatto Che il proibizionismo Ha fallito Che è un fallimento Questo non significa Io penso che sia così Però questo non significa Che Io pensi Che Questo non significa Che io sia a favore Delle droghe pesanti O che io sia a favore Del consumo Di veleni Penso però Che non serva a nulla Proibire qualcosa Visto che Le prove ci dicono Che proibirla Porta poi Soprattutto i più giovani A incuriosirsi E a aumentare Il consumo Di questa cosa Soprattutto quando Non c'è un'educazione Adeguata In merito Soprattutto Esatto Cioè io ti proibisco Però non ti spiego Non ti spiego Il perché Come spesso succede Per tantissime cose Purtroppo sì In tutto il mondo Non solo in Italia Invece Questa parola Un po' anche per capire Chi sei tu Nella vita di tutti i giorni La parola è Abitudine 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 A me viene in mente Un'abitudine Un'abitudine mentale Io sono una persona Che nonostante Possa sembrare Senza regole Alla mano Lo sono Però Psicologicamente Sono una persona Che si dà molte regole Regole anche Per assurdo Di pensiero Perché Penso che comunque Fare determinati pensieri Ti porti a vivere In un determinato Stato mentale Farne altri Ti porti a vivere In un altro Stato mentale E soprattutto Bisogna accorgersi Che tante volte Non si sbaglia In quello che si fa Ma si sbaglia Ancora prima In quello che si pensa Di conseguenza Se si riesce a pensare bene Si evita poi Anche di sbagliare Quindi ancora prima Di agire bene Mi viene in mente La disciplina Per esempio Un'abitudine Mi piace Prendere abitudini So Di essere un essere umano Quindi Di essere un essere Abitudinario Che sta bene Con delle abitudini Questo è Psicologia di base Quindi so Che se mi abituo Ad allenarmi Tutte le mattine Potrei farmi bene Questa cosa Potrà Potrà poi diventare Un'abitudine Che non mi costerà Molto farlo Di conseguenza Se questa cosa Non la faccio Mi costerà poi Di più farlo Quindi Metto la disciplina Insieme all'abitudine Per creare Dei binari Insomma sono un po' Il life coach Di me stesso E questo Che è per me L'abitudine Quindi allenamento Matutino Sì Abitudini alimentari Abitudini Io sono rastaffariano Abitudini Delle preghiere Per esempio Durante il giorno E questa cosa Anche sull'alimentazione A Ital Quindi Certo Sì Pesce Vegetariano Pesce Non ne mangio Mangio un po' Di carne bianca Di pollo E per il resto Sì Abbastanza Vegano Perché non amo molto Mi piacciono i formaggi Ma appunto Abitudine Comportamentale Disciplina Tento di Trattare il mio corpo Meglio possibile Quindi non consumo Molto Molti formaggi Questo non significa Che sia lì Ogni tanto Anche io Faccio i miei sgarri Per carità Però Insomma Tento di Avere delle abitudini E delle discipline Su di me Che ho notato Che poi Mi fanno stare bene Provate Perché è vero I buddhisti Dicono una cosa Meravigliosa A seconda Del Come dicevi tu Lo stato mentale In cui ti poni E di come Immagini il mondo Il mondo Ti risponderà Di conseguenza Assolutamente Assolutamente Siamo portati A volte A pensare In maniera Troppo razionale Di ogni cosa Su qualsiasi cosa A volte Ci sta Però A volte Prendiamo tutto troppo Sul serio Nel senso che Va bene essere razionali Ma Va bene anche ricordarsi Che viviamo in un universo Che non ha fine Che se qualcuno Trova la fine Poi dovete spiegarmi Cosa c'è dopo Di conseguenza Essere razionali Troppo Forse Come dico in una canzone Tutto è possibile Per questa cosa Che ho appena detto Se tutto è possibile Perché tutto è possibile Cambiamo completamente Argomento La prossima parola È Disinformazione Disinformazione È un grosso problema Nel mondo È un grosso problema Nel mondo Grazie alla disinformazione Gira l'economia Grazie alla disinformazione Gira la politica Grazie alla disinformazione Gira il mondo Forse non è bene Bene dire grazie Forse dire per colpa È meglio dire Per colpa Per colpa Della disinformazione Guarda cosa sta accadendo Adesso Proprio in questo periodo Con Il virus Corona Quello Che passa In realtà È Follia pura Allarmismo In realtà Poi La notizia importante È Sapere cosa Quanta mortalità Può avere Un determinato virus Quante persone Purtroppo La disinformazione Va a creare Soltanto caos Perché comunque Questo è Denaro I telegiornali Ci tengono Ad avere più audience Rispetto all'anno prima Rispetto al mese prima Rispetto alla settimana prima Queste sono vittorie Non importa Evidentemente Il modo La forma In cui si dà La qualità Della notizia La qualità Del lavoro Che viene reso Poi E poi purtroppo Non c'è più solamente Il telegiornale Come poteva essere Dieci anni fa No Ci si è messo anche Internet Certo In 15 secondi Ti arrivano notizie Purtroppo Viviamo In un'era Dove La persona Veramente informata È la persona Che decide Di informarsi Mentre invece Purtroppo L'essere umano Medio Tende a stare A bocca aperta A sentire un po' Le notizie Al bar O sui social O Come possiamo Immaginare Di questa Di questa cosa Chi ci sguazza Ci sguazzano I politici Quando Alimentano Delle bufale Totali Ci sguazzano I telegiornali Ci sguazzano I giornali Ci sguazza Chi gli conviene E purtroppo Ne paga le conseguenze È in più Un'informazione Legata alla prima riga Che leggo Già Che trovo tremendo Sì Perché tutto Ormai è studiato Psicologicamente Tutto è marketing Lo slogan Pass Sì Questa cosa Disumanizza E denaturalizza Ogni Ogni cosa Ogni notizia Ogni cosa Che dovrebbe essere Più seria Secondo me La prossima parola È strettamente collegata Secondo me All'aspetto Della disinformazione La prossima parola È straniero Straniero Io sono stato straniero È un'esperienza Che mi porterò Sempre dietro Ci sono delle piccole Sfaccettature Dell'essere straniero Che sono impercettibili E altre che sono visibili Agli occhi di tutti Sono alcune cose Che secondo me Andrebbero vissute Per capire realmente Cosa vuol dire Cosa provi Quando ti dicono Perché Cosa sei venuto qua a fare Cosa sei venuto qua A fregare il lavoro Sono tante Mi ricordo Guarda Lavoravo in Spagna Facevo Facevo l'operaio Ricordo delle piccole cose Che non avevo mai notato Una di queste Può essere Guarda Quando salivamo sul furgone Per andare a lavorare Nel posto in cui lavoravamo Io Quello dell'Ecuador L'argentino E il colombiano Dietro E lo spagnolo davanti A guidare Di fianco Un altro spagnolo Questo accade anche in Italia Ma sono piccole cose Che se non sei tu Quello che va dietro Non capisci Non capisci Appunto Il fatto La differenza Del fatto di dire Caspita è vero Però il bambino Va sempre dietro Il cane va sempre dietro La donna Sempre dietro Davanti stanno i maschi Davanti stanno Questa cosa Se non la vivi Non la puoi percepire E sono piccole cose Prossima parola invece Principessa 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 Mi fa Non può non farmi venire in mente Il primo singolo Primo video Anche che ho fatto Che tra l'altro È andato anche molto bene Che tra l'altro È un pezzo che tuttora Faccio in tutti i miei live E a cui sono molto legato Mi fa venire anche in mente La donna La donna come Come viene vista oggi Anche purtroppo Nella musica E soprattutto Dovremmo tornare Alla domanda di prima Anche della trap Quello che vediamo Nei video Non che io sia contrario A mettere belle ragazze Nei video Piuttosto che ballerine Sono contrario però Al fatto di far apparire Una donna come un oggetto O come Un posa cenere O come un oggetto Per il sesso O come una stupida Che sa solo muovere il culo E parla come la Valeria Marini Nei tempi migliori A me onestamente Questa cosa Fa un po' innervosire Perché non è reale Prima cosa Perché se fosse reale È reale Siccome non lo è È tutto un mondo E quello che mi fa innervosire E mi dà fastidio È che i più giovani Non chi ha Il Diciamo Il cervello Per capire l'esperienza Per capire Interpretare Questa cosa I più giovani Pensano che Questa è la normalità Questo comportamento È la normalità Questo modo di ballare È la normalità Questo modo di vestirmi È la normalità E questo è il messaggio Che passa E anche lì È travisato Tra l'altro Tutto viene poi Se andiamo a guardare Se vogliamo a guardare Per esempio Il twerk Il twerk non è altro Che una delle tante mosse Del ballo dance Che si fa ai Caraibi Ma una delle tante In realtà dietro c'è Tutta una cultura Della danza Tutta una cultura Che viene dal Carabia Ancora prima dall'Africa Di movenze Eccetera Chiaramente Come in tutte le cose Il fattore culturale Non passa Ma passa solamente Il movimento di bacino Passa il movimento di bacino E la roba che si può consumare È bruciare subito Così Certo Purtroppo guarda Vorrei Scusa se mi prendo un po' di tempo Su questa cosa Ma è una roba Che penso da tanto Che è una cosa Che ho notato Forse solo io Non lo so Negli ultimi Dagli anni settanta In poi Ho notato Se tu guardi per esempio I comici prima Degli anni settanta Totò Riusciva a far ridere Le persone Senza dire neanche Una parolaccia Man mano da lì in poi Sia la musica La comicità I film Tutto quello che era arte È andato sempre più Accuminandosi Verso il trash Cioè sempre più Su immondizia Che si possa consumare Il più rapidamente possibile E che non ci importa Quanto possa durare Quindi da lì siamo arrivati Fino al trash più incredibile Con solo parolacce Verissimo I film di Natale La peggio musica trap TikTok I balletti Senza aprire Il capitolo politica Dove anche lì Una volta c'era un rispetto Di un certo tipo E adesso si è arrivati Al trash puro Certo Se dovessimo parlare Anche della politica Dovremmo fare la puntata 2 Di questa intervista Esatto No ma giusto per il trash Non vorrei rubarvi Due puntate io Poi anche gli altri Dicono Dudu è lui Allora anche noi Ora chiudiamo Con l'ultima parola Ti lascio bere Chiudiamo con l'ultima parola Che è la parola Che usiamo sempre Nel finale Del nostro raccontami Che è Desiderio Desiderio Mi fa venire in mente Una cosa che dico sempre Alla fine dei miei live Da ormai da Tantissimi anni Il mio desiderio È che Una mattina Domani mattina Magari Almeno Una delle persone Che mi seguono Si svegli con la voglia Di migliorare il mondo E mi piacerebbe Che questa persona Prendesse Prendesse con coscienza Magicamente Del fatto che Lui Non è Quello che possiede Non è Il suo conto in banca O il lavoro che fa La macchina che guida Ma che si rendesse conto Che è una persona Come gli altri Questo è un mio desiderio Sarebbe bello che Tutti ci rendessimo conto Di questa cosa Non siamo Quello che facciamo Non siamo Quello che gli altri pensino Pensano che siamo Non siamo I soldi Che abbiamo E nemmeno il telefonino Che abbiamo Siamo tutti uguali Siamo una razza sola Una razza umana Dovremmo capire questa cosa Sicuramente il mondo Migliorerebbe molto Grazie tantissimo Per essere stato qua con noi Grazie a voi E buonissime cose per tutti Rasta farai Già Rasta farai Ciao a tutti 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 Ciao a tutti